11 marzo, buongiorno, ben ritrovati, cari telespettatori di FanoTV, siamo in diretta, sono le 7.35 in questa nuova colloquazione oraria, che ricordo fino a sabato sarà tale perché c'è la messa del Papa da Santa Marta alle 7 del mattino, ricordo anche che alle 18 avremo un'altra messa proprio perché le celebrazioni eucaristiche sono sospese in tutta Italia, dunque la conferenza episcopale italiana ha dato anche alle televisioni cattoliche come la nostra collegate al circuito corallo di inserire delle sante messe in diretta ulteriori proprio per andare incontro alle esigenze dei fedeli. Quindi alle 18 appuntamento dunque oggi da San Giovanni Rotondo. E adesso cominciamo con il santo, restiamo in tema un attimo, il santo del giorno che è San Costantino, il sole sorgerà, anzi è sorto alle 6.26, tramonterà alle 18.10. Per quanto riguarda il tempo, oggi avremo cielo sereno o poco, anzi cielo sereno, punto, senza neanche una nuvola come vedete dalle immagini, mentre domani giovedì 12 qualche nuvoletta nell'entroterra, soffieranno i venti da sud lungo la costa nelle ore centrali, poi venerdì 13 ancora cielo nuvoloso, ci sono delle nuvole che sono in transito, le temperature però in aumento. Poi per quanto riguarda i giorni successivi, quindi sabato e domenica, tra sabato e domenica, da verificare con le prossime uscite dei modelli, probabile ritorno qualche debole struttura che potrebbe portare qualche instabilità, ma poi insomma per il resto la settimana prossima avremo ancora tempo buono, ma il problema nostro adesso non è il tempo, nel senso meteorologico del termine, ma è questo virus che continua a espandersi, ci sono queste misure in tutta Italia, vediamo allora quali sono le notizie più importanti del giorno che troverete sui quotidiani in edicola oggi. Ovviamente per noi che siamo nelle Marche ci sono due giornali di riferimento, il Corriere Adriatico e il resto del Carlino. Allora, il Corriere Adriatico, l'edizione di Pesaro, apre l'edizione con la strage degli anziani. Emergenza coronavirus, altri sei morti in un solo giorno, cinque sopra gli 80 anni, il totale dunque sale in regione a 18. Ordinanza della regione, isolamento per chi viene da nord, Ceriscioli dice almeno altri dieci giorni di trincea. A centropagina invece la fotografia dei commercianti pesaresi in lacrime che hanno deciso tutti insieme di abbassare le serrande fino al 3 di aprile. Un giocatore invece della Vispesero è positivo al tampone, anche uno sportivo, un giocatore della Vispesero è risultato positivo al test del coronavirus. Il ragazzo di cui non è stato reso noto il nome ha chiesto il tampone dopo aver saputo che una sua vicina di casa si era ammalata. Il resto del Carlino invece titola così l'edizione di Pesero. Eros Tabanelli, vittima del virus, morto il fondatore della casa di accoglienza, il sindaco grave perdita per la città, le vittime salgono a 18. Chiudiamo bottega, in città giù 100 saracinesche, stop in molti locali, anche a Fano, assemblea in piazza, i negozianti ci fermiamo anche se il decreto non ce lo impone. E sull'altro fronte, gli operatori incontrano seri, ora è decisiva la partita degli aiuti. Il grande cuore della città raccolta fondi per l'ospedale e poi marcha e quarantena tutte le persone che arrivano dalle altre parti, pesaresi compresi, e poi sotto invece la VL torna negli Stati Uniti anche Thomas, mentre sui controlli lungo le strade, violazione dei confini, ecco le multe, prime sanzioni a chi non rispetta le norme e il comune chiude il Miralfiore, il parco. La fotografia di Ero Stabanelli, morto a 86 anni a Senigaglia, dove era ricoverato per problemi respiratori riconducibili al coronavirus. Addio al fondatore della casa di accoglienza che porta il suo nome, il sindaco, una perdita gravissima per la città. Addio all'imprenditore Tabanelli, questo invece è il titolo del Corriere, capace di stare vicino agli ultimi, aveva 86 anni, mentre coach Mazzanti, Davide Mazzanti, che allena la nazionale di pallavolo femminile, dà lezioni e consigli in diretta a Facebook, risponde alle domande tecniche e conforta le pallavoliste che sono in riposo. Calciatore bianco-rosso contagiato, la vispesero va in quarantena, giocatore positivo dopo essere venuto a contatto con una vicina che ora è ricoverata in ospedale. La società dice sta bene, ora ci adegueremo sottoponendoci ad un periodo di isolamento. L'epidemia cresce meno che altrove, questo è il punto a Marche Nord, ma ora arrivano anche i pazienti sotto i 50 anni. Intanto nel Dipartimento di Prevenzione un medico è stato contagiato, ma ora sto meglio, lui racconta, lo scorso 3 marzo il medico ha partecipato ad una riunione con il Sindaco di Urbino Maurizio Gambini, alcuni responsabili di settore del Comune per l'emergenza sanitaria nel territorio e lì ci sono stati tanti contatti ravvicinati, per questo motivo il Sindaco e i dirigenti sono in isolamento fino al 18 di marzo, pur stando bene. E lui dice ho avuto molti contatti ma nessuno sospetto, da 20 giorni lavoro 12 ore al giorno, giro tutta l'area vasta, l'ospedale e insomma tanti altri posti, ma se dovessi dire dove l'ho preso non saprei. Marche 394 contagio e 18 vittime, il Corriere Adriatico, 6 anziani morti in un giorno, ricoveri raddoppiati tra venerdì e ieri, 71 tamponi positivi in 24 ore, il Governatore Ceriscioli dice ci aspettano altri 8, almeno 8-10 giorni di trincea, corsa contro il tempo per attivare i 408 posti letto previsti nei reparti Covid. Fermato l'esodo dal nord, siete tutti in quarantena, c'è un'ordinanza della Regione e in isolamento finiscono le famiglie arrivate dalle ex zone arancioni, dunque una quarantena obbligatoria e verifica del rispetto dei divieti imposti per tutti coloro che da sabato scorso sono arrivati nelle Marche dalle zone del nord Italia soggette alle prime importanti restrizioni governative. Il Presidente della Regione Ceriscioli ha immediatamente stoppato l'esodo incontrollato di chi pensava di aggerare le misure di contenimento del coronavirus, puntando il navigatore verso il buon ritiro estivo lungo la costa adriatica. Un viaggio sconsiderato che potrebbe aver trasportato nelle Marche persone potenzialmente infette e quindi pericoloso veicolo di contagio. Così, altro che vacanzina, senza mascherina, disinfettanti e vita contagiata, tutti in quarantena grazie a questo decreto, insomma, questa ordinanza del Presidente Ceriscioli. Un Covid Hospital, invece, questa è l'altra pagina del Corriere al San Salvatore, tutto il resto invece verrà spostato a Fano. Stiamo parlando del Presidio del San Salvatore che diventerà Covid Hospital, ovvero un ospedale riservato a trattare solo pazienti positivi al coronavirus, la direzione dell'azienda ospedaliera Marche Nord sta proprio andando in questa direzione dopo la curva in salita dei casi positivi e di quei pazienti che necessitano in modo massiccio di terapia intensiva e rianimazione. Mentre si lavora in queste ore per attivare una nuova riorganizzazione dei presidi di Pesorefano, nei presidi ospedalieri di area vasta invece si delineano modalità e tempi più certi per la riapertura del polo di Fossombrone, che oggi è un ospedale di comunità, da riconvertire dunque temporaneamente in emergenza in polo ospedaliero per i pazienti che hanno superato la fase più acuta del virus. Aperta ieri anche la nuova ala del reparto di medicina all'ospedale di Urbino per affrontare l'aumento dei tamponi positivi. Ventilatori polmonari, Pesaro c'è, si parla della solidarietà, fieri di avere questa produzione, la nuova esternomobili che produce le scocche per queste macchine, per una società di Bologna. Ne abbiamo consegnate 125 la settimana e si andrà avanti fino a luglio, dice il titolare Federico Fratesi. Intanto è stata messa in campo la possibilità di aiuti anche di tecnici della protezione civile. Già ci sono due assunzioni. Mentre sull'altra pagina del giornale, anche qui si parla di solidarietà, di persone che vogliono aiutare Marche Nord, c'è questa maxi bolletta per comprare nuove attrezzature e c'è anche il cash, il denaro contante che questo, come sapete, nelle strutture pubbliche aiuta ad accelerare soprattutto i tempi perché altrimenti avrebbero dovuto fare bandi e quant'altro. L'input è partito da una dottoressa della rianimazione che raccoglie adesioni. C'è un IBAN, un conto corrente bancario per tutti. Le donazioni sono arrivate da imprenditori, da fondazioni e persino dalla provincia. In auto, senza motivazione invece, plausibile, tre persone denunciate. A Pesero, un nigeriano di 35 anni che era nella zona del centro, senza motivo, si è introdotto praticamente nell'auto di una donna di 45 anni. Ovviamente la donna è rimasta spaventata quando ha visto questo straniero, questo uomo sconosciuto dentro l'auto, non tanto per il fatto che è straniero ovviamente, ma per il fatto che era uno sconosciuto chiaramente, ma non ne voleva sapere quest'uomo di scendere dall'automobile. Così la signora ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti sul posto con radiomobile e i militari hanno convinto quest'uomo ad abbandonare il veicolo e poi lo hanno identificato. È venuto fuori appunto che era uno straniero, in regola però con il permesso di soggiorno, però il giorno precedente era a Como e quindi è stato denunciato a piede libero per essersi spostato da una zona rossa all'altra senza motivi indifferibili. Quindi senza motivo. Invece a Pesero, un pesarese, è stato fermato perché aveva febbre e tosse, ma con sé non aveva nessuna autocertificazione. È stato denunciato per aver violato le restrizioni imposte dal governo sui movimenti. Fondi per l'ospedale, le aziende in campo, nasce l'associazione insieme per Marche Nord, imprenditori in prima linea, appello alla città. Ecco come dare il proprio contributo. C'è un IBAN, ci sono le coordinate bancarie che vedete in questa immagine, sulla pagina del resto del Callino. Comprate il giornale oppure fate la fotografia e poi con l'onbanking magari fate la vostra donazione. Intanto 10.000 euro arrivano dalla provincia, 100.000 euro invece dalla fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Ma c'è anche il crowdfunding, cioè quella raccolta di fondi su internet. In questo caso l'iniziativa è partita da Giuliana e Claudia Gatti, le sorelle che hanno organizzato questa raccolta fondi per l'ospedale Marche Nord e sono stati già raccolti oltre 60.000 euro in poche ore. La cifra poi confluirà nel conto d'insieme per Marche Nord, il conto di cui abbiamo parlato qui sopra sul giornale. Il commercio invece pesarese, ma anche quello di Fano, abbassa le serrande, così hanno deciso. Molti negozi scelgono la chiusura, restano aperte solo le imprese alimentari ed alcune attività particolari di servizi. Lo comunicano le associazioni di categoria, mentre i ristoratori incontrano il sindaco. Qui ci sono due fotografie di due incontri importanti che ci sono stati ieri, questa piazza del popolo a Pesaro e questa invece il cortile del palazzo municipale di Fano. Decisione, dicono loro i commercianti, dettata dalla volontà di fermare il contagio e non solo per motivi economici. Deserto in comune, questa è l'immagine di una saletta d'attesa all'interno del comune di Pesaro. Pochi uffici aperti e solo su appuntamento. Gli informatici stanno elaborando una piattaforma per lo smart working, cioè per lavorare attraverso il computer da casa. Intanto il lavoro procede con il telefono, con WhatsApp e con collegamenti via Skype. Ma c'è pure chi ha scelto di andare in feria o chi invece è chiuso all'interno del palazzo. Mercato vietato al San Decenzio dopo il pasticcio che c'è stato nei giorni scorsi con il sindaco che voleva fare il mercato. Poi è arrivato il decreto Conte, quindi gli ambulanti che non sapevano più cosa fare. Alla fine qualcuno è arrivato lo stesso, ma sono stati allontanati dai vigili. Le aziende alla Riva Cold 1200 sono a casa, l'ABS invece ha preso 200 computer portatili. Il gruppo Vitri decide venerdì se ripartire. Selci invece ha fatto un orario estivo dalle 7 alle 14, 500 collegati attraverso il computer. La mensa l'ha chiusa, Scavolini invece va avanti, ma con prudenza. Spero che il nostro esempio, dice Vitri, sia seguito da altri in questo momento di emergenza. Marche quarantena per chi ci viene e nell'elenco degli arrivi proibiti c'è anche la provincia di Pesaro. Nuova ordinanza della regione a partire dal 7 marzo, scatta pure l'obbligo di avvisare il medico di famiglia. E a Numana e Sirolo, i sindaci controllano tutte le case vacanze. Federica, e qui siamo alla pagina degli appelli, tanti ce ne sono, anche audio, quelli che vi abbiamo anche fatto ascoltare noi ieri pomeriggio. Federica è un'infermiera che è in trincea a Marche Nord. Ragazzi, date retta, restate a casa. L'appello di chi giorno e notte lavora per salvare le vite, forse non siete entrati in questi giorni in ospedale perché altrimenti avreste cambiato idea. Sveglia gente, dice ancora, abbiamo bisogno anche del vostro aiuto. Anche noi, in certi momenti, dice ancora, questa infermiera viene da piangere, ma siamo uniti più che mai. Sotto invece il messaggio di un'altra infermiera, Laura, in prima linea al San Salvatore, il sindaco chiuda tutto, rivolgendosi a Matteo Ricci, i posti non sono infiniti, abbiamo già sforato. Al San Salvatore, dice ancora, si fa l'impossibile per rispondere all'emergenza. Abbiamo allestito la seconda e terza rianimazione la settimana scorsa in soli due giorni. Arrivano i divieti anche per radunarsi e fare passeggiate al parco. Il Comune chiude il Mirafiore, sbarrato dunque fino al 3 di aprile, una decisione presa con la Prefettura. L'assessore Belloni ai giochi c'è sempre folla di mambe e bambini, ovviamente tutto questo è da evitare. Due negeriani per la violazione dei confini, uno veniva da Como, l'altro da Pesaro e Montecchio, l'abbiamo visto poco fa. Intanto la Polizia Stradale fa una raffiga di controlli sulle strade con le mascherine, pattuglia, il casello della 14, circa 100 fermati in 5 ore, centinaia di chiamate alla Questura. Come devo fare per viaggiare? Queste sono le domande. Mentre a Macerata Feltria un funerale è stato segnalato ai carabinieri, un funerale che è stato celebrato ieri a Macerata Feltria, come è noto i funerali sono proibiti dal decreto. Il parroco però ha riferito che i parenti erano a debita distanza e che tutto si è svolto regolarmente. E questa è invece l'altra pagina del resto del Carlino. Slitta anche la ritmica, c'è l'ipotesi di far spostare tutto a giugno la tappa pesarese della Coppa del Mondo dunque verso il rinvio di almeno due mesi. Il Presidente di Aspes Luca Pieri dice non è stata annullata, è stata soltanto posticipata al lavoro Tecchi in contatto con il Segretario della Federazione Internazionale. Poi sulle dichiarazioni di Sgarbi sul coronavirus chi lo segue sono tanti che lo seguono su Facebook per le cose che dice il modo in cui le dice però siccome ha anche un ruolo politico nel senso che è assessore anzi prosindaco del Comune di Urbino qualcuno sta cominciando a storcere il naso e dire insomma Sgarbi farnetica sul coronavirus Gambini il sindaco prenda le distanze dal suo prosindaco e quindi le forze politiche Movimento 5 Stelle PD Viva Urbino e Sinistra per Urbino condannano le gravi dichiarazioni diramate con un video sui social di Sgarbi in effetti si sta mettendo secondo me in un brutto pasticcio e comunque c'è anche l'appello per le donazioni di sangue devono proseguire ad ogni costo tesserati Avis già in campo non smettete di donare sangue perché è importante Giulia Saracenisca in 100 negozi ancora la fotografia da Piazza del Popolo ora deve vincere il buon senso assemblee in piazza proibite stop fino al 3 di aprile il decreto non lo impone però dicono i commercianti è una nostra scelta mollano anche molti bar bar e ristoranti stop in attese di tempi migliori sono tra le attività più colpite dal decreto del governo per la limitazione degli orari sapete i bar e ristoranti devono tassativamente chiudere alle 18 in questa fase dunque è meglio chiudere del tutto e anche a Fano chiudono bottega aumenta il numero dei negozianti che si fermano incontro con il sindaco di Fano Massimo Seri ora servono però anche gli aiuti intanto oggi questa mattina è atteso il decreto economico e dunque si attende soprattutto di capire come si cercherà di aiutare le famiglie e le imprese da questo stop forzato gli ambulanti arrivano lo stesso alla fine i vigili però bloccano tutto mattinata attesa al San Decenso a Pesaro alcuni operatori presenti nonostante la sospensione laurea all'Ateneo Ducale corone dal loro via Skype le discussioni delle tesi non si fermano lunedì proclamati 11 nuovi dottori il calendario fitto fino a marzo boom per le elezioni online 10.000 contatti al giorno mentre c'è un caso il 15 universitari costretti a spostarsi dal Sogesta al Colle cari ragazzi annoiatevi vi servirà dice il sindaco di San Lorenzo in campo dell'Onti che scrive cari ragazzi annoiatevi con queste parole inizia la lettera aperta del sindaco ai giovani per invitarli in questo periodo di emergenza a restare a casa una delle frasi più forti ed efficaci che ho visto in queste ore è questa annoiati è meglio che annoiati scusate è meglio che intubati è per questo che mi è venuto in mente di rivolgermi a voi dice il sindaco di San Lorenzo in campo intanto e qui chiudiamo la pagina del coronavirus le altre pagine per chiudere la nostra segna stampa la chiesa pesarese in lutto è morto Don Graziano Ceccolini aveva 86 anni per 54 anni è stato parroco di Cattabrighe si è spento per un improvviso a gravarsi delle sue già fragili condizioni di salute mentre da Sant'Angelo Invado allarme per un giovane tedesco scomparso nel nulla da domenica vigili del fuoco impegnati anche con il nucleo cinofilo e l'unità di crisi locale sono impegnati da ieri pomeriggio nella ricerca di Anton così si chiama giovane di nazionalità tedesca di 22 anni scomparso da domenica da Baciuccaro di Sant'Angelo Invado sui social è stato anche lanciato un appello che invita a chiamare le forze dell'ordine a chiunque avesse informazioni in merito il ragazzo è alto circa un metro e ottanta non parla italiano e con alcuni problemi di salute mentale l'ultima volta che è stato visto indossava un berretto di lana oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di macerata feltria e insieme ai nuclei cinofilo e come abbiamo visto all'unità locale lo stanno cercando tramite il GPS vede anche impegnati i carabinieri del posto le ricerche nella serata di ieri si sono concentrate nella frazione di Villa dell'Agata a poca distanza da Sant'Angelo Invado poiché risulta che il ragazzo sia andato in quella direzione quindi guardate bene questa fotografia se vi capita di vedere qualcuno che gli assomiglia o comunque pensiate che sia lui chiamate il 112 il 113 o comunque le forze dell'ordine si attacca il contatore del vicino di casa scoperto si ritrova una doppia denuncia è un italiano che è accusato di furto ai danni della società elettrica e del giovane che ha raggirato è successo a Montellabate la storia di un uomo di 54 anni originario di Taormina ma appunto domiciliato nel piccolo paese del Pesarese Sgarbi Farnetica scrive e titola il Corriere Adriatico Gambini fa l'opposto il prosindaco riveda quanto ha detto viva Urbino PD 5 Stelle sinistra condannano le dichiarazioni fatte in un video sul coronavirus il primo cittadino è in quarantena Vittorio può dire quello che vuole io però quello che dice non lo condivido ancora dal giornale del Corriere Adriatico Fano appalto da oltre 6 milioni per due concorrenti per le tasse il bando per 6 anni più 2 riguarda la riscossione dei tributi del comune e il recupero crediti in Corsa il Colosso Municipio a Trento e Andreani di Macerata che gestisce il servizio incontri via Skype la Cucchiarini l'assessore al bilancio e Polizia Locale Sara Cucchiarini dice così non ci fermiamo le nuove tecnologie servono per sostituire gli incontri diretti con i cittadini disabili senza assistenza domiciliare Tarsi Pesaro si organizza Fano No per l'assessore prioritario alla salute sollecitata alla Regione una linea condivisa secondo Tinti con guanti e mascherine si snatura il rapporto dell'operatore con l'altra persona l'esempio di 5 giovani consiglieri cambiamo le abitudini l'appello ai coetanei per rispettare le regole anche al fine di tutelare i familiari macchina mangia cavallette contro il flaggello dell'Africa l'artista Natale Patrizia l'ha pensata e disegnata per fermare l'invasione degli insetti a Guzzi rinvia di 4 mesi invece le tassi in scadenza oggi non si svolgerà il mercato di calcinelli mentre a Fossombrone Bonci Bonci chiede scusa in tema di emergenza sanitaria il sindaco di Fossombrone chiede scusa sul suo profilo Facebook per aver sottovalutato i primi allarmi cercando di esorcizzare la paura e trasmettere un po' di serenità illudendomi dice lui che la situazione potesse risolversi velocemente invece nel giro di pochi giorni è cambiato il mondo oltre a tutto quello che state provando tutti per me si somma la frustrazione per non riuscire a rispondere a tutti i quesiti che mi state facendo unito ad un devastante senso di impotenza e quindi comunque chapeau insomma ha chiesto scusa il Gabriele Bunce è stato probabilmente uno dei tanti che inizialmente pensava che questa cosa potesse sfiorarci o non potesse avere queste dimensioni per cui ha puntato di più sullo sdrammatizzare e dire state tranquilli che tanto non è niente di che in realtà poi le cose sono andate diversamente troppe violenze stradali sì a nuove regole diritti Gioia Bucarelli siamo a Pergola ha perso il suo compagno e appoggia la battaglia della fondazione Scarponi chieste sanzioni per le strade costruite senza piste ciclabili e più sicurezza nei sorpassi ancora dai quotidiani le ultime pagine anche qui siamo sul resto del carlino una corsa contro il tempo per trovare Anton da domenica sera un ragazzo tedesco è scomparso dal casolare di campagna della nonna che si trova nel comune di Sant'Angelo in Vado Anton è questo ragazzo qua è una corsa è una lotta contro il tempo per ritrovarlo questo ragazzo tedesco di 22 anni che è scomparso dalla casa della nonna tedesca anche lei da domenica sera l'agriturismo si trova in località Villa del Ponte scrive il giornale nel territorio comunale di Sant'Angelo in Vado a dare l'allarme sono stati parenti che non lo hanno visto rientrare dunque hanno lanciato la segnalazione il 22enne potrebbe essersi perso nella campagna molto fitta in quella zona mobilitati i vigili del fuoco carabinieri soccorso alpino e non solo ancora ecco questa era l'ultima pagina dunque della nostra segna stampa sì l'ultima pagina siamo di nuovo all'inizio ma noi ci fermiamo qua e ci salutiamo ci diamo appuntamento questa sera alle 20 e 30 con il telegiornale Occhio alla Notizia se avete segnalazioni come sempre segnatevi questo numero 338 4968 250 buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti a tutti